Continua il gran campionato del Lecce, il grande inizio di stagione dei Salentini che battono 1-0 il Genoa e sono momentaneamente secondi in classifica in solitario grazie al gol del migliore in campo, ovvero Oden che inizia dalla panchina, che entra dalla panchina, che non entra benissimo in campo, qualche errore di troppo, qualche passaggio sbagliato, però poi ha la forza, la capacità di indovinare il tiro che scardina il muro del Genoa e che permette a Lecce di portare a casa altri tre punti in questo fantastico inizio di campionato per i giallorossi. Sette dunque per Oden.